Benvenuto, benvenuta, bentornata, bentornato a lezione con Sento che Posso nella playlist dedicata alla storia. Prima di qualunque cosa iscriviti subito al canale, attiva le notifiche e segui Sento che Posso sui diversi social dove ogni giorno pubblichiamo tanti contenuti interessanti. Allora, siamo agli inizi dell'Ottocento, abbiamo visto il congresso di Vienne, abbiamo visto la restaurazione e adesso parleremo delle rivoluzioni europee o dei moti del 20 e del 21. Infatti a partire dal 1820 una catena di moti insurrezionali contro l'ordine imposto dal congresso di Vienne investe l'Europa. Sono rivoluzioni, rivolte che hanno come protagonisti soprattutto giovani studenti aristocratici, intellettuali, ufficiali di idee liberali, per lo più riuniti in società segrete. L'esito di questi moti non sarà molto positivo in generale, tranne che per la Grecia, perché la Grecia otterrà l'indipendenza dall'impero ottomano. Dunque, abbiamo già visto 1815, il congresso di Vienne inizia all'età della restaurazione. Restaurare, ritornare alle origini, cioè ritornare alla situazione antecedente, la rivoluzione francese, antecedente all'esperienza napoleonica. Un'Europa riscritta a tavolino. Un'Europa dove i confini sono stati ridefiniti dalle grandi potenze vincitrici, dove non si è tenuto conto dell'idea di nazione, dove si è tornati alle antiche dinastie che vanno a riprendersi, a risedersi sui troni europei, dove si ritorna ad una società suddivisa per ceti, dove alcune classi sociali hanno tutto, cioè hanno tantissimi privilegi e altre non hanno assolutamente nulla, dove il potere della Chiesa si rafforza e torna ad essere molto molto importante. Ovviamente, abbiamo già anticipato, serpeggia in Europa anche un forte malcontento, che si esprime attraverso il movimento liberale e il movimento democratico. Vedremo tra poco che liberali e democratici insomma non hanno proprio gli stessi obiettivi, ma c'è un elemento di coesione e cioè rivendicare l'indipendenza nazionale, far sì che le nazioni si trasformino in stati e far sì che non ci sia il controllo, l'egemonia straniera su popoli differenti. Pensiamo alla situazione italiana e leggemonia austriaca in Italia. Liberali, chi sono e che cosa vogliono? I liberali esprimono i valori e gli interessi della borghesia. L'idea è un'autorità limitata, controllata, quindi non il ritorno all'assolutismo. Dicevo, un'autorità limitata e controllata da degli organismi rappresentativi espressi da un'elite di cittadini. L'idea di base è tolleranza, libertà di opinione, difesa dell'individuo contro gli abusi dell'autorità, quindi stato di diritto, divisione dei poteri. Il riferimento è la monarchia parlamentare inglese, una monarchia dove vengano rispettati i diritti fondamentali del cittadino, dove venga salvaguardata e sostenuta la proprietà privata, l'iniziativa privata e il libero commercio. Insomma, è evidente, i liberali rappresentano gli obiettivi della borghesia. I democratici sono sicuramente più radicali. Il governo ideale non è una monarchia costituzionale, ma è l'idea di repubblica, dove un'assemblea è eletta a suffragio universale, cioè tutti i cittadini devono poter esprimere il proprio voto, indipendentemente dal censo, quindi dal reddito, indipendentemente dall'appartenenza ad una classe sociale o meno. L'idea dei democratici è legata ad un concetto di sovranità popolare. Ora capite che qui siamo più radicali rispetto ai liberali. Ovviamente sia liberali sia democratici vedono di mallocchio la restaurazione dell'assolutismo emersa dal congresso di Vienna. Ora, in questo clima di restaurazione, lo capite benissimo, che qualunque forma di dissenso politico è repressa. Tant'è che negli anni venti, vedremo tra poco, abbiamo già un po' anticipato, nasceranno tutta una serie di moti insurrezionali, volti a cambiare questo status quo creato dal congresso di Vienna. Ora, tutti questi moti scaturiscono dall'attività clandestina di società segrete che avevano già cominciato a diffondersi a partire dal Settecento, ma che negli anni della restaurazione diventano il principale strumento di dissenso. Anche perché, lo capite, ogni forma dichiarata e palese, quindi non segreta, di dissenso politico veniva repressa. Ora, queste società segrete rappresentano una, anzi, la forma di associazione presente in tutti quegli stati, in tutti quei regimi dove la censura era molto rigorosa e dove la libertà di riunione, di associazione e non parliamo di opinione, era ovviamente proibita. Ora, il rischio era che gli appartenenti a queste società segrete fossero individuati e quindi fossero catturati, fossero imprigionati, se non addirittura uccisi. E quindi che cosa succedeva? Che dovevano essere segrete. Ora, questo vuol dire che solo pochissimi potevano conoscere le strategie e gli obiettivi delle varie associazioni. E vedremo che questo carattere di segretezza rappresenterà ben presto un limite relativamente al successo delle iniziative di queste società segrete. Perché se erano pochi a conoscere l'obiettivo dell'insurrezione, eccetera, è chiaro che poi il sostegno non veniva perché le altre persone non sapevano che cosa stesse succedendo e a che cosa si stesse mirando. Ora, in questo insieme di società segrete convivono associazioni di orientamento più liberale e moderato, come quelle della carboneria, molto diffusa in Italia, ad esempio, e altre di orientamento più democratico, come il caso degli Adelfi e dei Filadelfi, diffusi principalmente in Italia, del nord in Francia, oppure quello dei Comuneros in Spagna, o quella dei sublimi Maestri Perfetti. Quest'ultima era nata intorno al 1818 da uno dei più famosi cospiratori italiani, un certo Filippo Buonarroti. Il cognome vi dice qualcosa? Era discendente di quel Buonarroti Michelangelo che abbiamo conosciuto e che avete conosciuto qualche anno fa. Filippo Buonarroti si proponeva come obiettivo ultimo della insurrezione, la ripartizione delle terre e la creazione della Repubblica fondata sulla sovranità popolare. L'attività di Buonarroti venne svolta prevalentemente a cavallo tra Francia e Italia e sicuramente avrebbe rappresentato forse il ponte tra gli eredi della rivoluzione francese e una nuova generazione di radicali e di socialisti francesi. L'abbiamo già anticipato e lo ribadisco. Il limite maggiore di queste organizzazioni sarà proprio il fatto di poggiare su una base della popolazione piuttosto ristretta. Infatti parteciperanno alle attività di queste organizzazioni per lo più intellettuali, studenti, militari rappresentati da quegli ufficiali e quegli sotto ufficiali che si erano formati nel periodo napoleonico e che rappresentavano anche i nuclei più preparati, più intraprendenti. Ma tutto il resto della popolazione sarà esclusa e questo ne rappresenterà il limite più grande. Ora, la scintilla del movimento rivoluzionario parte dalla Spagna. La Spagna aveva vissuto intanto una fortissima repressione contro qualunque forma di dissenso, contro qualunque movimento liberale democratico. Era caratterizzata da un notevole malgoverno e in quegli anni aveva sofferto in modo particolare tra il 1817-1816 più o meno le conseguenze di una gravissima crisi agricola che di fatto aveva colpito tutta l'Europa. Nel frattempo nei possedimenti spagnoli del Sud America erano nati dei movimenti che chiedevano l'indipendenza, guidati per lo più da capi militari di origine creola, cioè spagnoli che erano già nati sul territorio. I moti rivoluzionari che colpiscono l'Europa partono proprio in occasione della necessità di sedare le rivolte nelle colonie. Ora il re di Spagna decide di mandare delle truppe per sedare le rivolte in Sud America. Ma proprio in solidarietà nei confronti di questi ribelli sudamericani, nel gennaio del 1820 alcuni reparti dell'esercito spagnolo si rifiutano di partire dal porto di Cádiz per partecipare alla repressione dei ribelli sudamericani. L'ammutinamento è rappresentato, anzi scusate, guidato da un certo Raffaele del Riego, un ufficiale che apparteneva alla sette dei comuneros. Partendo dalle file dell'esercito però la sollevazione ben presto si estende in tutta la Spagna. Il re Ferdinando III si vede quindi costretto a ripristinare la Costituzione di Cádiz del 1812. Costituzione che diventerà il modello a cui si ispireranno le richieste da parte di tutti gli altri movimenti insurrezionali europei. A cominciare dallo stesso Portogallo. Infatti nell'estate del 1820 un colpo di stato militare impone in Portogallo un ordinamento costituzionale analogo a quello spagnolo. Vi dico subito che questo regime liberale democratico che si instaura in Spagna dimostra ben presto tutta la sua fragilità. Uno perché il re è stato costretto ma non vede l'ora di ripristinare l'ordine e per far questo chiederà aiuto ovviamente alle potenze europee. Due perché ben presto nasceranno i soliti contrasti tra il movimento insurrezionale più moderato e quello più radicale. Tre mancherà il consenso delle masse contadine che erano fortemente influenzate dalla chiesa. Però come avete già intuito l'esperienza della Spagna non rimane infatti isolato perché scatta una reazione a catena. Reazione favorita dal collegamento internazionale delle varie società segrete e oggettivamente da uno stato di malessere e di insoddisfazione a partire appunto da quella economica diffusa in Europa. Quindi insomma il terreno era fertile. La rivoluzione francese accende la miccia nel regno delle due Sicilie dove i legami con l'ambiente culturale spagnolo era molto forte e dove l'attività della carboneria era stata molto molto forte e presente. Della notte tra il primo e il 2 luglio del 1820 la rivoluzione scoppia con l'ammutinamento di uno squadrone di cavalleria presente a Nola con il grido Costituzione e Libertà. Probabilmente l'avete letto sul vostro libro. Questo moto insurrezionale era stato preparato da pochi intellettuali e aveva ottenuto l'adesione dell'esercito comandato dal generale Guglielmo Pepe. Ben presto il moto si estende in tutto il regno. Ora il re si vede costretto a concedere una Costituzione modellata su quella spagnola, su quella di Cadice. La monarchia viene mantenuta in vita ma il re viene affiancato da un parlamento elettivo formato da una sola camera a cui spettano la proposta, l'interpretazione e la deroga delle leggi del regno. Ora il nuovo governo si trova però subito in difficoltà e vedremo subito perché. Primo solito probleme. Non vado d'accordo. Nascono subito i contrasti tra i democratici e i moderati che innanzitutto si manifestano relativamente al modello politico da seguire. Da un lato la Costituzione di Cadice e il modello spagnolo, dall'altra il sistema politico e costituzionale britannico. Inoltre queste divisioni interne e il comportamento, l'atteggiamento un po' ambiguo del sovrano cominciano subito ad indebolire il fronte rivoluzionario. E la difficoltà che appare subito e non sarà da poco è l'esplosione della questione siciliana. Perché nel luglio del 1820 Palermo insorge contro le truppe di Napoli, quindi le truppe napoletane, e la sommossa viene sostenuta da esponenti dell'elite nobiliare a cui si udiscono anche ampi strati della popolazione. Ora, perché Palermo insorge? Perché se vi ricordate quando si era unito il regno di Napoli e il regno di Sicilia nel regno delle due Sicilie, la capitale era stata spostata da Palermo a Napoli e i siciliani questa unione non l'avevano presa per niente bene. Per cui questa Sicilia, queste insurrezioni in Sicilia, assume un carattere antiborbonico, ma soprattutto un carattere separatista. I palermitani vogliono un regno autonomo di Sicilia. Ma nel frattempo non è che ottengono tanto il sostegno delle altre città siciliane, ma non peraltro, perché a loro volta erano gelose della propria autonomia. Quindi capite subito che a problema generale si aggiungono altri problemi non proprio facili da risolvere. Insomma, tutto l'entusiasmo iniziale viene smorzato ben presto. Infatti si conclude molto velocemente. Ad ottobre praticamente tutto è finito perché non solo il governo di Napoli manda un corpo di spedizione, ma nel marzo del 1821 c'era stato il via libera dalle potenze della Santa Alleanza all'invio di truppe per sedare le varie insurrezioni. E quindi arrivano le truppe austriache che entrano in Napoli. A questo si aggiunge la divisione tra gli aristocratici e i popolani e insomma tutto nel breve finisce in un nulla di fatto. Ora, ma non è che gli altri stati rimangono a guardare. Ora, l'esperienza spagnola fa esplodere anche le aspirazioni rivoluzionarie che ad esempio nel regno di Sardegna vedevano come protagonisti dei giovani aristocratici insofferenti al regime ultraconservatore imposto dal governo Sabaudo. Tra questi troviamo la figura di Cesare Balbo, ma anche la figura ancora più radicale di Santorre di Santa Rosa. C'era di fondo l'aspirazione di fare della monarchia Sabauda lo strumento di lotta contro l'Austria e puntare sulle mire espansionistiche del Piemonte per rendere quindi la monarchia Sabauda la dinastia che avrebbe potuto guidare uno stato italiano unitario. Diciamo che il progetto iniziale era quello di riuscire a cacciare gli austriaci dal nord Italia e dare origine almeno ad un governo costituzionale di tutta l'Italia del nord che comprendesse quindi il regno di Sardegna e il Lombardo Vedeto. Proprio mentre le truppe austriache stanno attaccando i rivoluzionari Napoleoni, l'insurrezione esplode anche al nord. Il moto scoppia ad Alessandria con l'ammutinamento di alcuni reparti dell'esercito e con l'insurrezione di una guarnigione che occupa la cittadella militare di Alessandria. Tra gli elementi di spicco di questa insurrezione sicuramente il conte Santorre di Santa Rosa. Vittorio Emanuele I abdica a favore del fratello Carlo Felice che però in quei giorni si trova lontano dal Piemonte e che nomina come reggente il principe ed erede al trono Carlo Alberto di Caregnano. Ora Carlo Alberto apparentemente sembra proprio il punto di forza di questa rivolta perché aveva dimostrato una certa simpatia per la causa liberale. Carlo Alberto accoglie inizialmente le richieste costituzionali concedendo una costituzione simile a quella spagnola. Vedremo però che questa sua iniziativa verrà stroncata subito. Perché viene stroncata subito? Perché Carlo Felice sconfessa immediatamente il reggente e gli ordina di trasferirsi a Novara per fronteggiare gli insorti. Ora il principe abbandona la causa dei ribelli, si prepara a guidare la repressione e quindi l'atteggiamento contraddittorio di Carlo Alberto, il rifiuto di qualunque concessione da parte di Carlo Felice che nel frattempo ha chiesto aiuto all'Austria, segnano di fatto la fine dell'esperienza piemontese. Infatti l'8 aprile del 1821 intorno a Novara le truppe della Santa Alleanza riescono a disperdere la resistenza dei rivoltosi. Un mese dopo Carlo Felice torna a Torino e inizia una vera propria azione di repressione nei confronti di tutti coloro che avevano partecipato alla sommossa. Questa repressione in realtà non riguarderà soltanto il regno di Sardegna ma anche il Lombardo Veneto perché gli insorti piemontesi avevano ottenuto anche il sostegno dei federati lombardi che si erano mobilitate. Nella famosa fortezza austriaca dello Spielberg che si trovava in Moravia finiscono con l'essere reclusi decine di decine di patrioti carbonari o affiliati alle diverse sette. Tra questi Maroncelli ma un nome che probabilmente ricordate con più facilità è quello di Silvio Pellico che come tutti forse voi ricorderete descriverà questa sua terribile esperienza del carcere dello Spielberg in un libro di memorie intitolato Le mie prigioni. Ora come potrete immaginare non è che le potenze europee stanno proprio a guardare. Una volta risolta alla questione italiana i rappresentanti della Santa Alleanza si riuniscono nell'autunno del 1822 nel congresso di Vie di Verona dove decidono di stroncare anche la rivoluzione spagnola così come era accaduto in Italia. Infatti così come aveva fatto il re di Napoli anche Ferdinando VII aveva chiesto l'aiuto delle altre potenze e aveva cercato di alimentare la guerriglia nelle campagne con l'obiettivo di impinare l'unità degli insorti. Ora l'incarico di ripristinare il regime assolutista viene affidato alla Francia. La Francia aveva il desiderio di dimostrare la propria fedeltà agli ideali della restaurazione. Aspirava ad un maggiore prestigio internazionale cercando di equilibrare da un lato la potenza austriaca in Italia e quindi cercando di rilanciare il suo ruolo nel Mediterraneo. Inoltre a livello di politica interna c'erano stati tutta una serie di problematiche che vedremo tra poco e che quindi ponevano la Francia nella condizione di voler esprimere la propria forza contro qualunque forma di dissenso. Nell'aprile del 1823 le truppe francese quindi entrano in territorio spagnolo e i ribelli vengono facilmente sconfitti. Del riego viene impiccato, la Spagna torna sotto una monarchia conservatrice e dopo poco anche il portogallo pone fine all'esperimento liberale perché questi moti non hanno funzionato. L'ho già detto ma lo ribadisco perché è molto importante capirlo. Allora il successo dell'intervento austriaco in Italia e quello francese in Spagna è dovuto essenzialmente alle debolezze di questi moti che avevano coinvolto per lo più gruppi ristretti della popolazione appartenenti ai ceti medio-alto. Erano state caratterizzate da una scarsissima unità interna e soprattutto dalla scarsissima partecipazione delle masse popolari che erano state un po' spettatrici ma non partecipatrici. Questo valeva sia per le masse popolari delle città sia per le masse popolari delle campagne. I problemi che hanno avuto i moti dell'Europa continentale poi di fatto non sono tanto diversi da quelli che incontreranno gli insorti russi. In Russia scoppia un'ondata rivoluzionaria a San Pietroburgo nel dicembre del 1825. Questo moto viene chiamato moto decabrista dal termine russo decaber che vuol dire dicembre e quindi questo potrebbe aiutarti a ricordare. Ancora una volta i protagonisti sono gruppi di intellettuali e ufficiali dell'esercito o comunque esponenti delle classi più elevate che durante il periodo napoleonico erano venuti a contatto con la cultura democratica e liberale europea. L'obiettivo era quello di dare vita ad un regime costituzionale. Ricordiamoci che c'era lo zar e che il governo era ultraconservatore in un paese ultra arretrato. Ben presto di nuovo gli insorti si ritrovano divisi. Questa volta più che altro sulla questione dei contadini senza terra perché i più radicali desideravano liberare i contadini dalla condizione ancora presente in Russia della servitù della gleba e si parlava di redistribuzione delle terre. Ovviamente era una cosa che non tutti gradivano. Per farla breve questa rivolta come ho detto scoppia a San Pietroburgo tra i reggimenti uniti per il giuramento del nuovo zar che subentra a quello precedente e infatti arriva adesso Nicola I. I vari reparti insorti vengono subito sopraffatti, i capi vengono scoperti e inizia un'epoca di dura repressione poliziesca o meglio sarebbe da dire di più dura repressione poliziesca. Quindi l'esperienza russa finisce praticamente subito. Quindi tutto finito? niente riuscito? In realtà no. Come ti ho già anticipato ci sarà una esperienza che porterà dei risultati e che sarà quella dell'indipendenza greca. Visto che però questo video mi sembra già sufficientemente lungo e complesso ti invito a seguire una lezione dedicata all'esperienza greca in un altro video. Ti ringrazio per essere rimasta e rimasto con me fin qui. Ti ricordo immediatamente iscriviti al canale, attiva le notifiche, metti un like e condividi così ci aiuti a dare un senso al nostro lavoro. Alla prossima, ciao!